Era presente anche Giovanni Basile, presidente del Comitato Proospedale di Agropoli, giovedì scorso durante la Commissione Sanità, riunitasi presso la Casa Comunale per discutere delle azioni da intraprendere per il nosocomio agropolese. La politica ha decrettato la chiusura dell'ospedale, afferma Basile. Il piano ospedaliero del 2019-2021 è stato bocciato dal Ministro della Sanità perché non rispettava i LEA, i livelli essenziali di assistenza, e poi in un secondo momento il nuovo piano ospedaliero è stato ripresentato in fretta e furia e votato nel mese di dicembre nel disinteresse totale della politica. Sinceramente sono andato via perché a me interessava ascoltare l'intervento del presidente della Commissione, il dottore Cianciola, perché poi gli altri interventi sarebbero stati poi interventi politici, quindi ritengo che la politica abbia decretato la fine dell'ospedale, quindi a me interessa interloquire più con i tecnici e le persone che tecnicamente possono dare delle soluzioni. So che Cianciola si è molto abbattuto per l'ospedale in passato, anche quando è stato eletto consigliere comunale, probabilmente il suo raffreddamento in seno a questa amministrazione è dovuto proprio alla questione ospedaliera perché forse aveva idea che all'indomani dell'elezione si poteva fare un piano serio politico per riportare l'apertura dell'ospedale, ma in realtà si è scontrato con un muro di gomma, cioè che sarebbe poi l'interesse politico, al disinteresse politico all'apertura dell'ospedale. Abbiamo diciamo in regione rappresentanti non del territorio, ma persone del territorio che rappresentano altri interessi, non quelli dell'ospedale di Agropoli e quindi questa cosa qui ha comportato un po' di sbandamento in chi come me e come Cianciola della lotta per l'apertura dell'ospedale ne ha fatto una questione non solo politica ma proprio di vita. Non è mancata da parte di Basile una stoccata anche al capo della segreteria del presidente della regione Campania, Franco Alfieri, già sindaco della città di Agropoli, vicino al presidente della regione Campania. Il suo intervento, mentre si discuteva del piano ospedaliero, sarebbe stato fondamentale per ottenere i servizi promessi. Abbiamo avuto due possibilità di intervento che sono cadute nel vuoto della politica e quindi abbiamo questo attuale piano che per Agropoli dedica tre, quattro righe nelle quali si dice in soldoni che Agropoli è una dependance di Vallo della Lucania. Quindi già questo pone fine al ragionamento che si può fare. Non sarebbe stato più importante un intervento politico quando si discuteva il piano ospedaliero e si parlava con qualcuno che tutti i giorni interloquisce col presidente della regione dicendo scusa, un qualcosa per il nostro territorio, lo vogliamo portare come risultato. L'ospedale civile di Agropoli, sottolinea Basile, resterà così e non riaprirà, lo dice l'attuale piano ospedaliero. C'è bisogno di atti giuridici per modificarlo. Anche la paventata apertura delle sale operatorie, di fatto, non dà una risposta a quello che da tempo i cittadini chiedono. La gente vuole che Agropoli venga reinserito seriamente in un discorso di emergenza-urgenza, quindi deve rientrare nella rete ospedaliere dell'emergenza. Sappiamo che la richiesta non è da poco. Però mi domando se oggi Agropoli diventa, come d'altronde è quasi sempre stato, una debandanza di vallo. Ancora ci sono tutti i medici in Alpi. Spiego, i medici in Alpi sono medici che non hanno un contratto, sono medici che vengono e vengono pagati 60 euro a ora. Ora tutti i medici che stanno attualmente nell'ospedale di Agropoli a livello pronto soccorso, quelle 12 ore che è aperto, vengono a costare 60 euro a ora. Moltiplichiamo per le ore e per i numeri. Quindi è un ospedale che costa questo qui, non è un ospedale che porta un risparmio. E in più è un ospedale che è come una bottega, dopo le 8 di sera non si può fare più niente. Iniziamo a parlare di H24, quindi facciamo una risposta seria H24, in modo che togliamo questa situazione di guardare l'orologio se succede qualcosa per capire dove andare. Da questo poi bisogna fare una riapertura graduale, però se non si impegnano delle risorse politiche e delle risorse economiche con dei piani seri, alla fine torneremo sempre a parlare di queste cose qui, ma non ci saranno poi delle risposte.